Con un momento di difficoltà così importante per le imprese oggi presentiamo un prodotto nuovo che è quello appunto della cassa del microcredito che è unico perché è un'associazione di categoria che lo crea e assiste in maniera diretta, immediata e concreta alle imprese e tutte le necessità di microcredito che hanno oggi le imprese del territorio. Una risposta utile a derogare in tempi rapidi il microcredito alle imprese. Si chiama cassa del microcredito SPA, la nuova società della Confesorcenti costituita per facilitare l'accesso al credito e dare risposte concrete ai giovani e alle start-up. La peculiarità di questo strumento è che intanto si rivolge alle start-up e a chi ha bisogno di convertirsi nel mondo del lavoro, quindi anche creando una piccola e micro impresa. Un tutor sarà dedicato direttamente dall'associazione per capire se il progetto è compatibile con un'operazione di medio e lungo termine. Quindi in 15 giorni la realtà è questa, in 15 giorni possiamo dare soddisfazione alle richieste di finanziamento di un piccolo imprenditore. Dopo l'invio della richiesta, entro le 72 ore successive, l'imprenditore sarà contattato dal tutor che lo seguirà passo passo. Sarà poi il tutor, dopo un'attenta analisi, a sviluppare e presentare la richiesta definitiva. L'erogazione del finanziamento è prevista entro 15 giorni dalla presentazione della pratica. Noi come ufficio assistiamo le aziende, dalle start-up a quelle già consolidate, sia per l'accesso al credito bancario sia sulla finanza agevolata. Quindi lo strumento del microcredito e del credito diretto di Italia Confidi è sicuramente un supporto ulteriore alla nostra gamma di servizi che offriamo alle aziende. Quindi sarà sempre più mirata e più cucita addosso a ogni singola azienda la nostra consulenza. Quindi sia per velocizzare l'accesso al credito, che non è appunto solo bancario, ma anche il nostro diretto, sia appunto la nostra assistenza proprio per velocizzare i tempi, le risposte dal sistema bancario.